Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo Digital Talk Unix Store Manager. Oggi è il 3 maggio e come associazione andiamo ad affrontare un nuovo Digital Talk. Prima però vi ricordo la finalità e chi è Unix Store Manager. Unix Store Manager è un'associazione di professionisti dell'Export, Export Import Manager ed esperti in ambito di internazionalizzazione, nata ormai un po' di anni fa, cinque anni fa, nel 2018, e che supporta gli Export Manager e i professionisti dell'Export in vari modi, mostrando i modi di lavorare, l'approccio ai mercati esteri, le necessità delle imprese, facendo formazione e spirito di gruppo su quello che è le tematiche di interesse per gli Export Manager, che non sono solo di metodo di lavoro, in qualche caso sono anche di valorizzazione delle proprie attività, valorizzazione delle proprie competenze, accesso ai bandi, finanziamenti per quanto riguarda attività di export e su questo aiutiamo gli Export Manager e anche gli Innovation Manager nel gestire al meglio la propria attività professionale e fare il gruppo con altri professionisti come noi. Questo si rende sempre più necessario perché l'associazione e la professione di Export Import Manager è sempre più complicata, sempre più difficile disporre di tutte le competenze che questa professione richiede e quindi lavorare e vedere come si muovono altri ci permette da una parte di crescere e dall'altra parte di magari migliorare il nostro approccio al lavoro e non ultimo anche di arricchirci, fare formazione e acquisire competenze dall'esperienza di altri come noi che sono sul settore. Su questo punto e sul punto della formazione abbiamo anche dei corsi di formazione che sono propedeutici alla certificazione come Export Import Manager, in base alla norma UNI 11.823.2021 come codice di norma di riferimento, ma permettono anche di acquisire crediti formativi per poter accedere a questa certificazione perché per poter accedere alla certificazione come Export Import Manager è necessaria sì una competenza di lavoro professionale in questo ambito, ma è anche necessario aver svolto e aver maturato formazione specifica coerentemente con la professionalità negli ultimi tre anni e noi formiamo questi corsi di formazione. quindi questo può essere a suo modo, anche questo, importante per chi vuole accedere a questo certificato che comunque dà valore all'attività svolta con questa professione di Export Import Manager. Ogni venerdì, ormai dal 2020, facciamo anche dei webinar di approfondimento su varie tematiche della nostra attività. lo abbiamo fatto su settori merceologici particolari, abbiamo fatto dei focus paese, dei focus sulle incentivi, sui modi di lavorare, sulla parte commerciale, sulla gestione di fiere, sulla contrattualistica, sulle norme per lo scambio internazionale a livello di spedizioni e quindi tocchiamo un po' tutti gli ambiti della professione. Oggi il tema sarà la metamorfosi dell'export. Andiamo a parlarne con due dei nostri relatori, associati e relatori. All'inizio il primo relatore sarà Gabriele Carboni, che è co-fondatore di Vivo e il suo focus intervento sarà misurare e comunicare la sostenibilità da rating ESG all'impact marketing. A seguire avremo Stefano Muneron, che è Digital Export e Innovation Manager e colui il focus sarà l'export di valore nell'era ESG. Alla fine dei due interventi potremo affrontare questi argomenti nella fase di Q&A, il dibattito tra relatori e pubblico e questo sarà moderato da me e Giovanni Pecorari, che condurrà anche il sondaggio. Quindi tra un po' troverete nella chat se non c'è già presente il link al sondaggio, vi invito a compilarlo mentre c'è il talk, in modo che potremo poi avere una base per poter affrontare gli argomenti e capire su questo argomento quanto ne sapete, quanto per voi ha valore e approfondire magari i temi con delle domande specifiche nella fase di dibattito. Detto questo io cedo volentieri la parola al primo relatore, cedo la parola a Gabriele Carboni per il suo intervento, che appunto ci andrà a parlare del misurare e comunicare la sostenibilità dal rating ISG all'impact marketing. A te la parola Gabriele, grazie. Sì, grazie a voi, ciao a tutti ben ritrovati. Ovviamente, ecco, potete vedere bene le slide. Confermo. Allora, partirei da un passo indietro, no? Non è la prima volta che si parla di sostenibilità qui in Export Manager già da tempo e la sostenibilità adesso, se non lo è, la vedrete a breve accompagnata dal caffè in qualsiasi bar, un po' come è stato per il GDPR. Andavate al bar, vi davano il caffè e un po' di privacy, no? Adesso a brevissimo vedranno il caffè con la sostenibilità. Però è bene fare un passo indietro. La sostenibilità, come termine italiano, deriva dal latino sostenere, che ha tre significati. Il primo dei quali è durare nel tempo. Quindi un'azienda, per durare nel tempo, ha bisogno anche di fare profitto. chiaramente il tema della sostenibilità ambientale e sociale pone il profitto al pari della comunità, dell'ambiente e dell'impatto positivo che l'azienda può generare, ma non dobbiamo dimenticarcelo. Ecco, quindi è vero che non siamo negli anni sessanta con Friedman che diceva l'azienda deve fare profitto appunto, tutto il resto è un DQ, ma nemmeno appunto che dobbiamo demonizzarlo totalmente. Quindi durare nel tempo è la prima caratteristica della sostenibilità. La seconda è resistere, in particolare i cambiamenti. Forse vi è familiare il concetto di doppia materialità. I temi materiali sono quei temi importanti, impattanti per la vita dell'impresa. Normalmente la materialità significa andare a misurare quanto l'attività dell'impresa impatta sulla comunità dell'ambiente. Doppia materialità significa anche cosa succede nel mondo e come questi temi materiali, questi problemi materiali hanno un impatto sulla mia attività aziendale. e resistere quindi ai cambiamenti ha a che fare molto con la sostenibilità. Il terzo tema, il terzo significato appunto di questa parola latina che è sostenere, è sostenere appunto. Sostenere significa creare e generare. C'è un termine che viene utilizzato nell'ambito della sostenibilità che è appunto la generatività. E quindi qui si può arrivare a quello che viene definito attivismo di Marche, quindi l'impresa di fatto ha a cuore determinati temi materiali, determinati problemi di sostenibilità tipicamente sociale e ambientale o di governance, il famoso ISG, e cerca di impattare in modo positivo fino anche a farsi portavoce di determinati temi. Vedete sempre di più le aziende, soprattutto quelle che hanno a che fare con i mercati di massa, prendere posizioni nette con determinati temi. Una volta lo faceva solo la politica o il Papa, adesso lo fanno anche le imprese. Quindi sostenere vuol dire anche questo. Quindi siamo in un momento dove la sostenibilità è appunto di moda, ma dove c'è anche una grande confusione. Quindi l'obiettivo un po' di questa nostra chiacchierata, e poi siamo ovviamente aperte alle domande, è quello di anche fare un po' di chiarezza su alcuni temi, pochi, non tutti, perché ovviamente è un tema molto ampio, ma anche di darvi degli strumenti precisi che potete usare per domani, insomma, qualcosa di concreto. Gli strumenti, alcuni strumenti, diciamo quelli un pochino più di moda, d'uso comune in questo periodo, sono sicuramente i bilanci di sostenibilità. Avete sicuramente sentito parlare della CSRD, quindi questa normativa europea che sta prendendo piede, stanno definendo nuovi parametri che si chiamano ESRS per il bilancio di sostenibilità delle imprese di una certa dimensione. Non ho fatto un slide su questo tema perché sicuramente avete già visto e ce ne sono un milione e mezzo. Quindi alcune aziende hanno e avranno la necessità di fare il bilancio di sostenibilità e vedremo che cosa lo differenzia per esempio dal rating ESG e anche cosa non è il bilancio di sostenibilità. La relazione di impatto, che è un documento che deve fare chi è società benefit, è obbligatoria in questo caso. Quindi mentre il bilancio di sostenibilità è obbligatorio per determinate aziende quotate o di determinate dimensioni, se lo diventerà nei prossimi anni per aziende comunque grandi ma anche non quotate, la relazione di impatto è di fatto solo obbligatoria per chi è società benefit. Noi per esempio la mia azienda è società benefit e questo è il secondo anno che rilasciamo la nostra relazione di impatto che vi ho messo anche nel QR code, mi è arrivata peraltro anche appena stampata fresca fresca. E quindi è un documento sintetico che è solo per società benefit. Poi abbiamo il rating ESG. Il rating ESG è un questionario di valutazione che viene fatto dall'impresa con i consulenti o senza i consulenti, quello che vogliamo, ma è un questionario per l'impresa sui temi ESG, quindi sui temi materiali dell'impresa, che restituisce un conteggio. Quindi a differenza di bilancio di sostenibilità e di relazione di impatto il rating ESG restituisce un conteggio che può essere certificato, ma lo vediamo dopo. E poi c'è il manifesto annuale per la sostenibilità che è un documento utile alla comunicazione dell'impresa, perché è chiaro che questi temi sono da un lato obbligatori per alcune aziende, dal lato importanti per capire la direzione dell'impresa, quindi sono uno spaccato della posizione strategica dell'impresa in quel momento sulla sostenibilità ed è ovvio che diventano informazioni chiave per la guida dell'impresa, per l'organizzazione. Però è anche chiaro che sono documenti fondamentali per quel che riguarda la comunicazione dell'impresa, soprattutto per determinati stakeholder. Oggi vediamo che le imprese che cominciano a guardare la sostenibilità di fatto stanno obbligando i loro fornitori, quindi più è grande l'impresa più è forte questo obbligo a fare qualcosa sulla sostenibilità. Fare qualcosa significa o comunicare con un bilancio o comunicare con un rating ESG, le banche cominciano a richiedere in maniera forte perché sono obbligate, di fatto. Oggi ovviamente già lo sapete, ma le banche già devono cominciare a mettere da parte più capitali se danno credito a un'azienda che non ha un rating ESG e non è considerabile come sostenibile. Quindi alla banca comincia a non convenire dare crediti ad aziende non sostenibili o viceversa, dà lo stesso il credito, accantona più credito per poter diciamo compensare, ma poi questa cosa viene pagata sul tasso del cliente. Ma anche in questo senso ci sono ovviamente persone più competenti di me. Questo comunque per dire che sono diversi gli stakeholder interessati a questi temi materiali e per dire che la comunicazione aziendale ormai non può più fermarsi sul prodotto e servizio, ma deve per forza oggi, per forza di cose, guardare questi temi della sostenibilità. A cominciare da questi documenti ovviamente significa tirare fuori anche a forza, spesso anche il sangue d'arrierape, ma veramente contenuti molto importanti per la comunicazione dell'impresa, anche per esempio verso i talenti dipendenti. Qual è la grande differenza tra il bilancio di sostenibilità e il rating DSG? Intanto il bilancio di sostenibilità è obbligatorio per alcune imprese, tipicamente imprese quotate, lo sarà per la CSRD per le imprese di una certa dimensione, anche non quotate, eccetera, eccetera. Ma soprattutto è un documento che deve seguire determinati standard, sono diversi, ma quello che ha preso piede a livello mondiale e che tutti usano sostanzialmente è quello definito come CRI e la comunità europea ha cominciato a definire il proprio standard che diventerà obbligatorio appunto per le aziende europee che si chiama ESRS. Quindi questo per dire che il bilancio di sostenibilità è un documento che deve attenersi a questi standard. Se non si attiene a questi standard non è un bilancio di sostenibilità, è un documento comunale, questo ci tengo a sottolinearlo, per dare i nomi giusti alle cose. Tuttavia, anche se è obbligatorio, anche se ha determinati criteri, anche se segue specifici standard, il bilancio di sostenibilità non restituisce un rating, un punteggio. Definisce quelle che sono le aziende dell'impresa, gli definisce secondo determinati standard, ma non restituisce un punteggio. A meno che non vogliono infilarci dentro un rating SG. Mentre invece il rating SG è di fatto, molto sinteticamente, un questionario di autovalutazione dell'impresa secondo i temi della sostenibilità che restituisce un punteggio. Ora, questo è il tema che è più probabilmente quello che vedremo spuntare come funghi ovunque da qui ai prossimi mesi, perché non è normato al momento, non esiste un rating SG, esistono mille-mila rating SG e possiamo inventarsene uno anche noi. Cioè un ex-quart manager domattina potrebbe dire, facciamo un bel contatto scientifico, mettiamo in piedi un bel rating SG e vale tanto quanto quello di B Corp, quello di Next, quello di Unicredit, quello di Crif, quello di Cerver. Il tema è che chiaramente oggi ci sono delle entità che hanno una reputazione di marca superiore, quindi il ruolo rating SG è riconosciuto diversamente da quello di altri che sono personaggi sconosciuti, ma parlavo, io sono anche nella commissione di Confindustria Emilia per la Sostenibilità, il responsabile, diciamo, funzionale di Confindustria mi diceva che ci sono delle aziende che prendono i 17 obiettivi della sostenibilità, gli SDG dell'Unione Europea, li stampano, sapete quelli tutti colorati, sono i 17 gol, ci fanno la X sopra, questo sì, questo no, questo sì, questo no, e lo mandano a Confindustria chiedendo se quello sia un buon rating di SG. Quindi questa è la situazione. Ovviamente più è forte l'ente che eroga questo rating e più ha valore, senza contare che alcuni proprio non ve lo riconosceranno. E sempre di più l'impresa tipicamente cliente e tipicamente forte chiede in maniera molto importante ai propri fornitori, a tutta la catena di fornitura, di usare un rating SG e spesso anche quale rating DSG usare perché è semplicemente più comodo per tutti. I due più famosi sono il B Corp, che forse avete già conosciuto, è un rating DSG di matrice non prettamente anglosassone, ma ormai lo è diventato, e il Next Index ESG che invece è italiano, fatto da un'associazione di associazioni di cui adesso vi parlo. Si chiama Next Economia, sta a Roma, è un'associazione senza scopro di lucro, quindi mi piace parlarne anche per questo motivo. Il rating ESG in questo caso intanto è nato nel 2012, quindi non è nato ieri, ed è stato creato insieme a 50 stakeholder di altissimo livello italiani. Vedete lì alcuni nomi che sicuramente conoscete. Erano anche risposto del concerto del primo maggio dato ieri. Visto che c'è Giuseppe Lancio un po' l'amo, ci manca solo un expert manager, lì in 5 minuti li metto in contatto, secondo me è una cosa che dà valore. È un rating ESG che non è stato inventato la mattina al bar, è stato soggetto di peer review scientifica con tre pubblicazioni, quindi è una roba anche scientificamente fatta molto bene. Ed è l'unico oggi riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Medi d'Italia come un marco di imprese di tipologia e certificazione. Quindi insomma dal punto di vista politico e strutturale questo è un rating ESG di un certo livello. In più alcuni enti che hanno ideato il rating ESG rilasciano anche le certificazioni, non tutti. Vuol dire che se raggiungo un certo punteggio, per la B Corp è almeno 80 punti, per Next è almeno 60 punti, l'ente ti dà un bollino, un bollino che puoi utilizzare, che ti dà un rating che ha un punteggio appunto da 1 a 100 nel caso di Next, ma anche la valutazione in lettere è un po' come gli elettrodomestici. Noi abbiamo ottenuto un rating BB con 62 punti, che comincia ad avere un valore serio appunto per i diversi stakeholder che sono sempre di più attenti a questi temi. Ho già imprese che conosco che hanno perso clienti perché non avevano pronto il rating ESG, cioè parliamo di qualcosa di veramente impattante. Loro appunto sono un'associazione, potete andare sul sito, ogni azienda in realtà potrebbe anche andare sul sito, farsi l'assessment in autonomia e richiedere un controllo da parte di Next, quindi è un approccio comunque generativo e inclusivo, non esclusivo, quindi non è che ci sono solo determinati consulenti, formati che possono fare questo, come accade con l'area. Vi faccio vedere invece un esempio, questo è proprio il nostro rating ESG, 62 punti BB appunto, la classificazione è esattamente come quella degli attrodomestici, ed è divisa in sei aree, due aree per l'AE, l'ambiente, due aree per l'ASG e il sociale, due aree per la G, che è il governo di impresa. Vengono dati dei punteggi, ci sono cinque indicatori per ogni area, in totale sono 30 indicatori e non 80.000 come in altri sistemi, e poi viene fatta la media. Una cosa importante, vedete in basso ci sono rischi 2.2 su 10, controverso e 0, un aspetto importante di avere questi stakeholder, che controllano quale rating viene assegnato all'impresa, è che effettivamente ogni indicatore ti chiede, a quello che lo stai autocompilando, se hai delle controverse per esempio con i sindacati, ma poi loro i sindacati ce li hanno dentro, quindi vanno a vedere concretamente quell'azienda che si vuole certificare con il rating ESG, se è a posto oppure no. Quindi c'è un controllo molto serio su questi aspetti. E un altro aspetto molto importante di questo rating, che è direttamente collegato al BESB, nel serico sostenibile, quindi in automatico si ottengono informazioni anche su questo tipo di valutazione, e i 17 goal della sostenibilità, questo credo che bene o male quasi tutti i rating di un certo livello siano già collegati e stanno anche lavorando per collegarli direttamente agli RS, è così da poter fare anche, da poter integrare questo rating in bilancio. Molti, devo dire, fanno il rating ESG, lo condiscono con un po' di contenuti e lo chiamano bilancio, e purtroppo non è così, il bilancio di sostenibilità a dei criteri, a degli standard. Posso metterci dentro il rating ESG, posso non mettercelo, ma a determinati standard. Per questo motivo abbiamo deciso di dare un nome diverso a quei documenti che parlano di sostenibilità, che possono sembrare un bilancio di sostenibilità, ma non lo sono nel concreto e negli standard. Quindi l'abbiamo chiamato Manifesto Annuale per la Sostenibilità, MAPS, vi svelo anche un segreto, il nome mi ha dato già GPT, io volevo che fosse un acronimo, e quindi abbiamo trovato questo MAPS. È uno strumento che è utile per chi non ha l'obbligo di bilancio di sostenibilità, ovviamente, perché è chiaro che creare un bilancio secondo determinati standard anche di costi e deve coinvolgere dei professionisti preparati. Alle aziende PMI fornitrici e di aziende strutturate, quindi il vostro cliente o il cliente del vostro cliente può chiedere un rating ESG, ve lo chiederà e probabilmente già ve lo chiede, ma non può obbligarvi a fare un rating ESG più posto che un altro e il rating stesso non obbliga a fare questo, perché la mega azienda chiede in scalata a tutti i fornitori e il rating ESG, perché le serve per ottenere più punti, ma per ottenere più punti sostanzialmente quello che deve fare è capire come la sua catena di fornitura approccia la sostenibilità e per capire lo serve un rating ESG, che può essere il B-Core, può essere il Next, può essere l'Unicredit, quello che volete, non è obbligatorio e non potrà mai essere obbligatorio averne uno in particolare. Apro una parentesi, molte imprese stanno cominciando a fare tutti i rating ESG possibili per presentare alla banca o allo stakeholder, quello dove prendono più punti, cioè c'è già chi comincia a fare questo più punti. Non solo, le grandi aziende che fanno parte di un gruppo che ha un bilancio consolidato di sostenibilità, vedono sì, diciamo, sistemata la questione, per esempio, bancaria, dove dice, c'è l'hai un bilancio di sostenibilità, sì, tieni, ecco il consolidato. ma poi non hanno strumenti per comunicare perché il bilancio consolidato prende alcuni indicatori, va dentro l'aziendina del gruppo e poi non ne parla più, parla del gruppo, non parla dell'azienda specifica. Quindi avere un documento che invece parla dell'azienda e non è così pesante e migliativo come il bilancio di sostenibilità è sicuramente interessante. Poi non vi voglio dilungare troppo le slide, poi le riceverete. Vi dico solo come si può strutturare questo manifesto annuale per la sostenibilità, appunto potete scaricarvi il nostro che tra l'altro presenteremo mercoledì a Bologna con Philip Kotler e Oscar Farinetti. Che cosa vediamo dentro? Vediamo una presentazione dell'impresa, quali sono gli stakeholder con i quali l'impresa ha una relazione, diciamo che questi sono aspetti che l'impresa dovrebbe avere chiari ma spesso non ce l'ha soprattutto la più grande l'impresa italiana e diventa anche una scusa per ragionare su questi temi ovviamente, qual è la visione, missione, scopo e valori, qual è il distingo di questa impresa, quindi cos'è che la distingue dalla concorrenza, la valutazione di sostenibilità e quindi il rating ESG fatto con chi volete, noi suggeriamo Next, ma lo fate con chi volete, i progetti che danno vita al rating, perché se noi diciamo che tutti gli anni supportiamo fondazione Ant, piuttosto che lega ambiente, tu stakeholder vorrai sapere che cosa faccio nel concreto e quindi si descrivono i vari progetti, si vanno a parametrare secondo gli obiettivi che l'impresa si dà per la sostenibilità e poi conclusione, propositi di pianificazione futura che sono importanti perché comunque lo stakeholder vuole sapere cosa ha fatto l'impresa ma che si intende fare nel futuro. Tutto questo se vedete alla fine se voi ci mettete in mezzo anche un po' di quello che fa l'impresa soprattutto all'inizio nella parte introduttiva o nella parte di identità di marca ci mettiamo anche un po' di quello che è il mestiere dell'impresa e di cosa fa l'impresa comincia ad avere un'assonanza molto forte con un company profile dove in più abbiamo la parte di sostenibilità tant'è che noi abbiamo eliminato il company profile e questo è il primo documento con il quale ci presentiamo e questo è tutto direi esatto potete collegarmi con me su LinkedIn e poi ci sarà spazio dopo per la domanda grazie dell'attenzione grazie grazie Gavaliere grazie per la visione generale di quelli che sono i criteri anche qual è l'obiettivo di questo tipo di certificazione perché dopo vedremo dal sondaggio quanti di noi hanno avuto a che fare con questa tematica ma sicuramente è un tema che avrà un forte peso ne sentiremo parlare come dicevi prima in ogni ambito anche quando andiamo a prenderci un caffetto grazie a tutti